La Pietralunghese chiude la pratica piccione con un largo 5-0. Nonostante una difesa dovuta a ridisegnare da mister Guazzolini per alcune assenze importanti, si può dire che i nuovi entrati hanno comunque risposto bene a tutte le indicazioni e il risultato ne ha la riprova. Al tredicesimo del primo tempo iniziano subito le marcature dei rosso-blu locali. Sugli sviluppi di un corner battuto da Bellucci, sul tiro si avventa Duranti che colpisce il portiere del piccione. Sembra battuto ma la sfera non supera la linea di porta, allora è bantango che più veloce di tutti ci mette lo zampino. Al ventottesimo occasione che sfuma di poco per gli ospiti, da calcio piazzato. Cetra si avventa di testa ma non c'entra la porta e manda alto. Al trentunesimo Piergentili dalla sinistra trova gli spazi per un cross sul quale arriva Cecchietti ma la conclusione è poco efficace. Al trentacinquesimo una disattenzione del rosso-blu crea un'occasione del piccione ma Piccioli è poco incisivo e Ciribe blocca a terra. Al quarantesimo locali in avanti ma non precisi. Per Gentili appoggia Perpedini che va al tiro che invece del tiro sceglie di calciare per Bellucci. La difesa fa muro e la conclusione dell'azione vede la palla raggiungere quasi la linea di fondo. Nel recupero al quarantasettesimo azione in contropiede dalla destra del piccione. Il cross parte ma il tiro ad un passo dalla porta finisce sul fondo. Subito dopo riparte la pietralunghese con Pedini dalla destra che appoggia per Piergentili ma tutto è sprecato perché il tiro non parte come dovrebbe e finisce sul fondo. Si riparte nella ripresa ed è subito la pietralunghese al terzo minuto che firma il 2 a 0 con Piergentili che spedisce in porta su appoggio di Cecchietti. La palla scende piano ma finisce nell'angolino alto alle spalle di Checcarelli. Al ventesimo pietralunghese in avanti con Duranti lanciato a porta. Il tiro però trova sulla traiettoria il portiere che chiude con il corpo. Al ventiduesimo arriva la terza rete del Pietralunga. Da corner Bellucci lancia in aria dove Duranti indisturbato di testa insacca. Al ventottesimo è Fabri a firmare il 4 a 0 con azione solitaria. Si porta in aria e firma la rete. Al trentaduesimo il Piccione prova ad accorciare le distanze con azione partita da corner ma Ciribe coi pugni si oppone. Al quarantesimo arriva la quinta rete della Pietralunghese. Piergentili raccoglie da centrocampo. Supera il difensore che ha intorno e si lancia verso il portiere ospite. Il suo tiro lo supera. Firma così l'ultima rete di giornata. Qui con Malokai, capitano del Piccione. Un commento questa partita finita con un risultato rotondo? Purtroppo una domenica no. Ci sta. Guardiamo avanti. Faccio i complimenti alla Pietralunghese. Faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguo e noi testa alla prossima e ce la metteremo tutta per salvarci. Con mister Guazzolini della Pietralunghese che finalmente dopo un po' di 0-0 si torna al gol. Gol rotondi. Si chiude con un 5-0 che definisce alla grande questo risultato oggi. Nonostante una squadra un po' ridisegnata soprattutto nella parte difensiva. Sì. Allora innanzitutto devo fare complimenti ai ragazzi che ci siamo inventati un po' qualche ruolo. Dovevamo uscire a testa alta quindi che avevamo dato tutto. E sotto questo punto di vista qui ci ha premiato anche il risultato. Quindi si sono impegnati al massimo dal numero 0 come diciamo noi al 27 che non c'era. Quindi molto bene a livello di intensità e la Pietralunghese deve allenarsi forte per poi andare forte la domenica. Un applauso lo faccio ai ragazzi che hanno giocato magari un po' meno che oggi l'abbiamo chiamati e hanno risposto benissimo. Quindi bene, sono molto contento ma mi è piaciuto molto l'atteggiamento. Poi sai se il risultato è 5-0 è un risultato rotondo però credo che sia anche il giusto premio a un lavoro settimanale fatto molto bene dalla squadra.